Maxi, sequestro da 12 milioni di euro eseguito dalla Polizia della Questura di Piacenza nei confronti di un imprenditore di origini siciliana e da anni residente nella provincia emiliana, pregiudicato e già latitante dal novembre 2022. L'uomo faceva arrivare autisti da Brasile, Moldavia, Turchia. Dietro a pagamento rateale, che arrivava fino a 2.500 euro, procurava loro falsi documenti ed attestazioni e li metteva alla guida dei suoi camion con turni massacranti. Si faceva pagare 100 euro per farli dormire in immobili faticenti o nella stessa cabina dei camion. Negli anni aveva costruito un impero e viveva in una lussuosa villa. Possedeva cavalli, carrozze e carri siciliani, nonostante dichiarasse poco o nulla al fisco. A presto! A presto! A presto!